buongiorno apicoltura don mario sei mesi fa ho visto una pubblicità bietti l'ho comperata ho installato 10 popoli col sistema bietti ormai siamo a fine stagione le ho aperte le osservate conclusione sono più belle di tutti quanti secondo me il sistema funziona li compreremo ancora perché per noi l'importante è l'app non il trattamento e non uno sfruttamento apicoltura don mario siamo alla vostra disposizione nel canton decino